SVIDEOGANYOUTUBE 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 Ciao a tutti da SVIDEOGAN74 Oggi sono in compagnia di Gazz che adesso cercherò di trovare in questo server di Dates Adesso lui sta menando uno, penso Sì, c'ha l'M4 c'è una merda di roba Io invece sono qua che ho trovato un faro Adesso vado in alto Oggi Gazz compie anche gli anni quindi faccio tanti auguri ce li siamo fatti prima ma glielo faccio anche in giocata in diretta in diretta diciamo anche se poi non so quando verrà caricato però diciamo che mentre sto giocando è il suo compleanno esatto ecco poi dopo dunque sto guardando dall'alto vabbè non vedo una mazza di più di quello che pensavo di vedere no io io sempre in quel posto sto c'è molto bello il paesaggio ma adesso torno giù ma ovviamente siamo in beta quindi ci sono degli aggiornamenti ne ho introdotto quattro fucili da caccia e appunto andiamo corriamo io sto correndo per la strada che cerco di andare una città con un cartello così magari cerchiamo di capire io qua vedo una fabbrica qua un simpatico cartello con i girasoli che diciamolo che è tutto scritto in russo quale cose perché boh saremo in Russia si siamo mandati in russo infatti devo iniziare a imparare il russo perché non riesco a leggere i i nomi eh fai una cosa trovi una ragazza russa così ti insegna eh eh ma ce n'è delle belle eh vabbè ovvio ovvio che vuoi saperlo più di me eh 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 in che senso eh 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 mi lascia perdere vabbè eh 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 oh c'è della gente va qua è il caps lock per parlare usa caps lock si ciao ciao no devi dire hi ah è in inglese hi how are you oh 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 no 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 cattivo I'm friendly are you friendly are you friendly credo di no sono tutte con lì con delle armi in mano quante anni ho? si quante quante armi c'è uno che ha un casco in testa allora una sta sparando una c'ha un sta in mano porca miseria un'ascia uno ha un ascia uno fucile sono in tre in tre oh mio dio mi so che ci muori ciao 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 no guarda io è meglio che li lascio stare quelli non mi sembrano molto amichevoli no infatti sparano le persone appena nate quindi che una donna c'era ah wow allora forse so chi quella donna c'aveva tipo una maglietta blu non so no era verdognola verdognola oh c'è altre persone anche qua vediamo 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 se riesco a fare amicizie eh ma qua si stanno picchiando uno what are you doing what are you doing what are you doing niente tu che magliettai? eh aspetta maglia grigia e i blu jeans io sto cercando di ammazzare uno ciao molto red sto sanguinando stai sanguinando tu o stai aiutando uno? no no quell'altro quell'altro cadavere e qua ce n'è uno inginocchiato cosa sta facendo? ah sta sanguinando una ragazza che sanguine vedi cosa ha addosso una ragazza che sanguine? tipo uno zaino no c'è niente sta ragazza qua c'è il tipo col casco che secondo me l'ha picchiata per bene io ho rubato la roba e ha fatto anche cos'altro eh 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 è morta ci sono gli zombie militari e se appare un fucile cioè? non capisco cioè se io clicco su di lei appare un fucile perchè? si appare un fucile f quella sinistra sono le cose quella sinistra sono le cose quella a destra ah viciniti è la roba che posso prendere adesso sono le tue io hard dead ok mi hanno ammazzato ahahah o c'è il mare poi davanti al mare che ci sta dunque sto guardando c'è un edificio là in fondo vado verso con l'edificio dovrebbe esserci una eh c'è tipo un cilindro enorme grande largo eh eh no è una cosa brutta da dire però no però non vedo cilindri l'arche no sto andando sto andando avanti per quella strada eh devi andare avanti per quella strada avendo il mare a sinistra si allora adesso ho il mare a sinistra il mare a sinistra devi seguire la strada allora qua c'è un cartello con delle indicazioni vediamo allora se vado a destra vado a se no sono a un chilometro o miglio non lo so che cosa è stato da conegli bim boh continua ad andare avanti va vai a conegli bim quella come c si si chiama ah qua c'è uno con vestito un po' da militare eh quello la salutalo e poi vai via i green green barret ciao i'm friendly green barret ciao 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 ah l'italian l'italian ah ok i think i i can ok ciao ma allora possiamo parlare in italiano se sei italiano ma è italiano quello? oh 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 scopo killi kill the zombie kili mi son incastrato nella parola c'ha detto scusa c'eva il fucile e tutto c'eva uno zombie di fianco ammazzamelo eh niente niente qua cooperativa zero si è morto no 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 sono scappato non è stata a sono arrivato con i bin e colori no veramente c'è cartello di prosegui quacena c'è tante case 100 antica lagga un pochino la mia connessione schifosa quante case sono mica contate allora ti dico se a cambi uomo si sono di una quantità ecco perchè se no se andavo destra c'era un'altra città te sei verso cambi uomo vai in piccolo corto piccolo corto piccolo stretto piccolo lungo piccolo breve piccolo e non ti vedo dovresti essere qua vicino ma dove sei? dove sei? dove sei? vai 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 vai